Come è la tecnologia esistente? È una tecnologia che non è nuova, nuovissima, il problema era l'accessibilità perché non riusciamo a trovarla in molti centri, quindi abbiamo reso disponibile questa apparecchiatura nel Val d'Arno, siamo i primi in provincia di Arezzo e pur essendo una cosa già conosciuta ha dei molteplici campi di applicazione che sono infiniti. Si rivolge a una serie di pazienti variegati perché qui possiamo trattare quelle che sono le ferite difficili, le ulcere, il piede diabetico, polimialgie. Possiamo utilizzarla nel trattamento dei traumi sportivi e possiamo utilizzarla in tantissimi altri campi, quindi quello che ci teniamo a sottolineare è che siamo presenti con una apparecchiatura che veramente ha campi di applicazione molteplici, direi quasi infiniti. Per questo è una macchina che utilizza la fonte più comune che è l'ossigeno, è un'iperossigenazione, quindi attraverso l'iperossigenazione dei tessuti si ottengono tutta una serie di benefici per molteplici campi di applicazione e per molteplici patologie.